Variare l'aspetto dei mobili in cucina è il sogno di tanti, perché è un po' come cambiare ambiente ogni volta che lo si desidera. Con questo obiettivo Zoldan ha creato Preta Porté, un sistema di cucine composte da elementi modulari su ruote completamente personalizzabili nei materiali e nei colori, il tutto senza bisogno di alcun montaggio. Una collezione che ha dispetto del nome, insegue il su misura e leggendo a materiali principi l'acciaio, il plexiglass e il legno. La collezione Preta Porté fondamentalmente si basa su 3-4 moduli che hanno 45, 60 e 90 centimetri di larghezza. Questi moduli costituiscono i lavelli, i piani cottura e altri piani di lavoro o come colonne attrezzate per forni. Quando la cucina arriva è già completamente montata, va solo tolta dalla scatola e posizionata nella sua posizione finale. Una volta acquistata non è finita qui, non avete comprato una cucina che è finita. Potrete, andando avanti col tempo, scegliere di muovere questi moduli, potendo ottenere così ogni giorno una cucina diversa da quella che avevate il giorno prima. Essendo mobili posizionati su quattro ruote con freno che li rendono molto stabili, è possibile sganciare il freno e poter posizionare comodamente il modulo in giro per la cucina. Tutti gli elementi delle cucine sono completamente personalizzabili e colorabili. Questo significa che non ci si deve accontentare della palette colori offerta dal momento, dalle mode, dal periodo, ma ognuno può veramente realizzare la cucina in cui si rivede. Una delle peculiarità della linea Preta Porté è di avere introdotto questa scatolatura del piano cottura e del lavello che permettono una verniciatura per cui una personalizzazione anche di questo elemento. I materiali sono principalmente tre. Il plexiglass con tutta la sua lucentezza, l'acciaio, lucido e satinato e il legno. Abbiamo scelto il plexiglass per la sua luce appunto, per i colori disponibili e proprio per la freschezza che riesce a trasmetterci. L'altro materiale importante della Preta Porté è l'acciaio, un materiale tecnico e molto robusto con cui abbiamo realizzato l'intero modulo e la struttura delle ante e dei cassetti, anti-cassetti che configurano così come contornati da un elemento ulteriormente lucido. E poi abbiamo il legno. Con il noce chiaro e il noce scuro possiamo ottenere una cucina dai tratti classici pur rimanendo moderna. Oltre al colore è possibile scegliere tra la schiena o l'alzatina del modulo. La schiena viene realizzata in acciaio con delle mensole e delle barre portaoggetti, mentre l'alzatina consente di inserire il modulo sotto pensili preesistenti o se sulla parete abbiamo delle piastrelle o già degli arredi completi. Questo da vita è un progetto infinito, ognuno in grado di poter realizzare la propria cucina altamente personalizzata. Personalizzazione che è in grado di ottenere il cliente finale senza bisogno di nessun aiuto, grazie al sito internet e al configuratore che permette in tre semplici passi di ottenere un progetto completo. Il configuratore permette di passo per passo scegliere ogni modulo e anche il costo di questi moduli, per cui anche poter variare il costo se scegliere un forno più costoso, un forno più ricco, con più programmi o una cosa più base. Abbiamo evitato tutta la distribuzione, tutta la catena di distribuzione. Questo fa sì che la cucina possa essere progettata e distribuita direttamente attraverso il sito internet.